Quando si formò l'universo? Se l'universo sta espandendosi, come credono gli astronomi, allora nel passato deve essere stato più piccolo. Probabilmente, molto tempo fa, tutte le galassie dell'universo erano compresse in un piccolo spazio. Poi ci fu una grande esplosione che causò la dispersione delle galassie nello spazio. Questa esplosione, che viene chiamata Big Bang, sarebbe accaduta circa 15 miliardi di anni fa. Per gli incolisci nonbaum. Per gli incolisci Chiarì, dove